Ciao creatura, io sono Eccatesplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai e S.M.A. Vedrai molti video con questa maglia, questa camicia molto bella perché oggi ho tempo e ne faccio tanti perché mi servono, porto avanti insomma E questa sera ho uno story time, era da tanto che non ne facevo e ti porto nella mia vita per questa sera Raccontando di un evento molto 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 importante per me, avvenuto sabato 22 gennaio 2022 Non so creatura da quanto mi segui ma io sto su youtube da un bel pezzo e prima di avere il canale ASMR avevo un canale normale Se si può definire normale, è un canale dove facevo anche ASMR ma facevo anche video dove non erano ASMR Dove parlavo con un tono di voce che non è soft spoken ma è cioè normale nel senso, normale non esiste nel senso Non sottovoce ecco, un tono di voce molto più alto ecco Dove facevo vlog, ricette o video di tanti tipi, assaggi e li faccio anche adesso in versione ASMR Ma quello era proprio un canale molto più trash diciamo, molto meno professionale, molto insomma abbandonato per seguire una strada diversa E sono contenta di averlo fatto, insomma è stata una mia decisione e sono stata contenta così Sono cambiate tantissime cose da allora e avevo instaurato dei rapporti, delle amicizie con alcune persone che poi sono andate a fare Non ci sono più ma altre silenziosamente sono rimaste e nonostante non lo mettessi più sui social Perché ho smesso di mettere cose private sui social Metto solo quello che penso sia tra virgolette superfluo o comunque possa interessare Ma non metto più cose private tipo, ecco ti esplendete fidanzato, boh, non lo saprete mai, penso Fino a che non mi sposerò e allora cavolo probabilmente se c'è la foto del matrimonio qualche idea ve la potete fare Però forse anche no, cioè potrebbe anche non essere, potrebbe essere il mio sposo e non si vede la foto però per dire Però comunque cose fatti privati Adesso sto molto attenta a caricarli perché ho avuto brutte esperienze e quindi ci tengo a non ripetere gli stessi errori Anche per questo i miei story time sono molto più speciali di quelli che fanno gli altri Perché ci sono persone che buttano, praticamente buttano tutta la loro esistenza sui social E invece io che preferisco, ho preferito fare un passo indietro, raccontare meno cose Ma ogni tanto portarmi nella mia vita, quindi l'esperienza più importante perché è più particolare Perché appunto è diciamo più raro, ok? E io che apro le porte a farvi sapere certe cose, a farti sapere creature certe cose Lo devi, cioè insomma dovresti ringraziarmi in poche parole Perché mi sto fidando di te, ti sto dicendo ok Questa è una cosa mia privata È molto importante per me Ma io voglio condividere lo stesso nonostante le brutte esperienze che ho avuto E il fatto che non sono più molto però a dire gli affari miei, le cose miei private sui social Però questo lo voglio condividere perché è talmente importante che ci tengo a condividerlo con te Ok? Questo è il senso Spero di essere stata chiara, di aver detto insomma Di essermi spiegata perché tante volte su Instagram anche o nei video viene spiegato una cosa E poi le persone capiscono tutto l'altro Quindi spero insomma di aver spiegato al meglio Più di così non so come dirtelo Quindi spero che tu abbia capito ma penso di sì Allora Tornando al discorso Ho maturato delle amicizie Senza metterle sui social Ho incontrato molte persone Ma la maggior parte delle volte Ho fatto magari anche la foto insieme Ma non l'ho messa sui social Quindi magari in questo periodo Del 2021 e 22 Inizio 22 Qualcuno sul mio Instagram avrà pensato Questa qua non fa più niente Non fa niente tutto il giorno E invece è il contrario Perché Ho fatto tantissime cose Tantissime esperienze Ho visto un sacco di persone Ma non l'ho reso pubblico E quindi mi fa ridere Che magari qualcuno potrebbe pensare E io direi Stica Cioè chi se ne frega Questa qua non fa più niente Solo perché non posto sui social Invece è avvenuto tipo il contrario Meno cose posto Più cose faccio Però Diciamo che le condivido solo Con chi merita Tra virgolette E Oppure tante cose Preferisco tenermele per me Perché sono Cioè non devo dimostrare Inizio a nessuno Le faccio solo per me stessa O per la persona Con cui le sto facendo E Sto tirando su le maniche Sentirei un rumore strano Perché ho tipo La maglietta Maniche lunghe Mi si è persa la manica qua Al gomito Ed è molto fastidioso Vabbè insomma Quindi è più speciale Non so credo si possa dire Ma non importa Il fatto che io ti porto Degli story time In quanto Solo così Potresti conoscere Le cose mie private Magari ogni tanto Su Instagram Qualcosa esce Ma Per capire bene Le situazioni Devo soltanto Spiegare io E Le capiresti solo Con appunto I miei story time Che sono rari E quindi Secondo me Valgono molto di più Di chi 24 ore su 24 Spiattella tutti I cavoli sui Sui social Comunque Al di là di questo È una cosa Comunque Suggettivo Ognuno È libero Di pensarla Come vuole E Niente Appunto Avevo questo canale Che trovi ancora Oltre la tua Su youtube Ecco E anche un canale ASMR Dopo Molti anni Che ci conosciamo Solo virtualmente Ora che io Ho Praticamente Non lo so 0,5% Solo di Paranoia e Sbatti Di uscire Quindi Minima cosa Dovuti Per il freddo Tra l'altro Non è anche Per colpa mia E Infatti Non vedo l'ora Che sia primavera Ma Si è presentata L'occasione Perché Lui Era Da sua zia Era andato a trovare Sua zia A Reggio Emilia Quando me l'ha detto Ho detto Sono da mia zia A Reggio Emilia Io ho pensato Aspetta Cavolo Bologna Sta Un'ora Da Cioè Una Diciamo che Bologna Era Un buon punto D'incontro Più o meno Metà strada Tra dove sto io E dove sta lui Quindi ho detto Andre Ma Non è mica Che ci possiamo Incontrare a Bologna Finalmente Ci possiamo Vedere Dopo tipo Sette anni E Che lui sta in Molise Sarei potuta andare In Molise In realtà Però Chi mi sa Che ha avuto Dei problemi Con uscire Prendere i mezzi pubblici Eccetera Cosa che Ora non ho più E quindi Adesso che non ho Mi fatto più problemi Per queste cose Che alla fine Sono Ostacoli Superabilissimi Ecco Basta Organizzarsi Non ti fassi Ci incontriamo A Bologna E lui ha accettato E quindi Sabato 22 Gennaio 2022 Ci siamo incontrati A Bologna Per la prima volta Ed è stata Io ero Iper felice Ero super Emozionata Non ero in ansia Ero emozionata Che sono due cose diverse Ero super Ero super emozionata E ho preso il treno Al mattino Ho fatto anche Delle storie E Con scritto Tipo Chi incontrerò oggi Lui ha fatto La stessa storia Con Chi incontrerò oggi Quindi Chi ci segue Entrambi Magari Magari Lo aveva Intuito Che poteva essere Un incontro Tra di noi Su Instagram E poi Alla fine Insomma Ci siamo trovati In stazione Dei treni Abbiamo girato Tutta Bologna A piedi È stato bellissimo Abbiamo visitato Anche il centro Abbiamo provato Delle cose Cioè Un effetto acustico Sto In un palazzo Sotto Una Una statua Insomma Attraverso i muri Una cosa Un po' da Harry Potter Diamo E Mi sono divertito Un sacco Cose che Probabilmente Qualche anno fa No Probabilmente Te lo dico Così Cose che Qualche anno fa Non avrei avuto Il coraggio di fare Infatti Non ho avuto Il coraggio di fare Perché non le ho fatte Mi sono Sembrate così Spontanee E facili Da fare Quest'anno E Ci siamo incontrati Appunto Siamo stati insieme Tutto Il mattino Pomeriggio Abbiamo anche pranzato Insieme E Così Come se non fosse La prima volta Come se non fosse Il primo incontro Ma come se Ci vedessimo Ogni giorno Cioè è stata Veramente Super spontanea La cosa E mi ha fatto Un sacco piacere E Cioè Non Veramente Io Sono stata Davvero bene Con lui E abbiamo Parlato tanto Abbiamo riso Tanto Soprattutto riso Tantissimo E Siamo stati al Tiger Abbiamo visitato Succeduto Il Tiger Di Bologna E Dove appunto Ho preso anche Queste caramelle Ci ho fatto Un video assaggi Non so se è già uscito O se deve uscire Comunque Vabbè E Poi Sono successe Le cose Super divertenti Anche lui Era Molto più timido Di come adesso E entrambi Non siamo più Così timidi E quindi Abbiamo potuto Usare E fare Delle cavolate In giro E fare Anche delle cose Che magari Per una persona Timida Molto chiusa Sono impensabili Invece In realtà Sono normalità Per tutto il resto Del mondo E infatti Noi abbiamo fatto Le nostre cose E Le nostre foto E tutto Poi C'è stato un momento Al Tiger Che È stato Silarantissimo Silarante Super Silarante Infatti Andrea Aveva trovato C'erano delle statuette Tipo quelle Tipo quelle Per gli Oscar Tipo Dorate Con Luminio Con scritto Winner Sotto E Ne ha trovata Una rotta E lui ha fatto Tipo delle battute E diceva Ah rotta Come la tua vita Insomma Quelle cose Che si possono dire Tra amici E Siamo andati A cercare i commessi Perché lui Voleva Quella statuetta Rotta Era solo Al piedistallo Mancava tutto il resto E allora Siamo andati Appunto A cercare i commessi E lui ha chiesto Ho trovato Questa statuetta Era già rotta Non l'ho rotta io Che era vero E Posso averla Sono disposta anche a pagarlo Costava tipo 3 euro Era rotta Tipo un terzo No? Te l'ho statuetta Vi do anche un euro Perché No no Vai tranquillo Te la regaliamo E lui tutto contento Questo trofeo Rotto Così sono winner E ci faceva Le battute Tipo Ecco come è iniziato Il mio 2022 Cosa del genere E insomma È tornato a casa Con questo souvenir Diciamo Ricordo E è stato Molto divertente Poi Cercavamo qualcosa Da acquistare Uguale Per avere Come un ricordo Però Al Tiger C'erano solo Cose di San Valentino E Io volevo un portachiavi Uguale al suo Ma Non c'era niente C'erano solo Sti cuori Io ho detto Andre Io mi rifiuto Di prendere Il portachiavi Con il covizzino Perché erano veramente Operopriosi E quindi Poi In una banchera C'era il mercato Abbiamo fatto il giro Al mercato Anche sui Montagnola Chi conosce Bologna Sa Io Quella Montagnola Lì Me la ricordavo Parecchia diversa Cioè Dieci anni fa Era Molto più Movimentata E c'erano tante più Bancherelle Invece è stata molto Sad song Però Nonostante questo Insomma Mi sono divertita E c'erano delle Felpe a un euro Però erano troppo piccole Erano tutte Tipo Dai Dai L'avrei Con seno di poi Forse avremmo potuto Comprarlo lo stesso Ma erano veramente Cortesi Secondo me Erano Ragazzini Non so Un euro Potevamo anche Rischiarcela Però Lì per lì Abbiamo Devevano Lasciatare Però Un treno Giuri Pensate Potevo Comprarlo Lo stesso Avevamo La felpa Uguale Però appunto Se non si poteva Mettere Per un euro Però Vabbè Insomma Quindi Prossima volta Che ci vediamo Sarà nostra missione Trovare Un oggettino Uguale Da Avere E Comprarci Insieme E Niente Questo è stato il mio incontro Con Andrea Andrea Mura Sì ovviamente Te l'ho raccontato Un po' così Non nel dettaglio Perché Giustamente A parte che non mi ricordo Neanche tutte le cose Che abbiamo detto E siamo andati Anche in un bel po' Di negozi Ce n'era anche uno Però non mi ricordo Il nome Era tipo Giapponese Con tutte cose Giapponesi All'interno Non l'avevo mai visto Lui ha detto Sembra un tiger Poi quando siamo entrati Non c'entrava niente Con tiger Ed erano tutte cose Giapponesi Anche super costose Però non lo conoscevo Quelle cose Però è stato bello Perdersi Tra virgolette A Bologna Perché A un certo punto Abbiamo Tolto il navigatore Perché giravamo con Allora Io so andare Dalla stazione dei treni Fino al mercato Nella montagnola Che non ci vuole tanto Poi però Tipo il tiger Non mi ricordavo Dove fosse Quindi siamo andati Un po' Con il navigatore Ma poi Andrea ha detto Andiamo all'avventura Spento il navigatore Abbiamo girato A caso Io e lui Ed è stato molto bello Anche perché Noi giocavamo sempre A un videogioco Degli zombie Dove io mi Perdevo sempre E seguivo lui E lui Lui è bravissimo Ha un senso Dell'orientamento Che è top Io invece Veramente Potrei perdermi Ovunque Cosa è successo Poi tra l'altro E quindi Seguevo lui E abbiamo girato Da Bologna Abbiamo trovato Un sacco di posti Perché dopo Mi veniva il flash E dicevo Ah questo qui C'è questo Insomma È stata veramente Una bella giornata Nonostante il freddo Perché al mattino C'era veramente Molto freddo Ci stavano congelando Però poi Ci siamo un attimo Rifugiati Nei vari Tiger Burger King Che cose varie E poi Verso il pomeriggio È uscito il sole E si stava abbastanza bene Sì Sono stata Molto bene E felice con lui E spero di rivederlo presto Lì per lì All'inizio Avrei voluto farci un vlog Però Poi ho detto Ma no Mi voglio godere il momento E poi basta Magari ne parlerò Infatti Te ne sto parlando ora Spero di incontrare Anche altre persone Con cui Mi sento da parecchio E che non ho avuto ancora Il piacere E l'occasione Di incontrare Però Quest'anno Lo farò sicuramente Anche Sto organizzando Anche Una cita Diciamo A Milano Però In primavera Tra l'altro Eromics Quest'anno Ho visto che è in aprile Spero di avere i giorni liberi Per andarci Perché Ho già pensato Il cosplay Da fare Con i miei amici E quindi faremo Se possibile Un cosplay di gruppo E niente Io ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura Grazie a tutti